E' scattata oggi la 32esima edizione del Festival Scacchistico Internazionale Conca della Presolana. Siamo con l'organizzatore Claudio Noè. Quanti giocatori quest'anno? Anche quest'anno confermiamo i 200 giocatori. I numeri definitivi li avremo solo nei prossimi giorni perché alcuni tornei cominceranno domani ed altri martedì, ma in base alle pre-iscrizioni contiamo anche quest'anno, come l'anno scorso, di superare il tetto dei 200 giocatori alla fine delle pre-iscrizioni, alla partenza del torneo. Chi sono i giocatori più forti? Quest'anno abbiamo comunque confermato dei giocatori in fascia elo oltre 2600. Si intende per i non addetti ai lavori giocatori che sono tra i primi 200 al mondo come forza di gioco. Abbiamo Mamedov che arriva dall'Azerbaijan e che è stato più volte campione del suo paese. Abbiamo Burmakin che è un giocatore che viene dalla Russia molto forte e che ha vinto in altre edizioni questo torneo. Abbiamo come terzo Alberto David, giocatore italo-lusemburghese che ha recentemente cambiato federazione che quindi allo stato attuale è il secondo in forza tra i giocatori italiani. Per i non addetti ai lavori spieghiamo in parole povere com'è la formula del torneo. Il torneo è un festival, questo significa che è organizzato su 5 distinti tornei. Questo viene fatto perché ciascun giocatore possa incontrare degli avversari che siano di una forza di gioco simile alla propria. Evitare quindi che un fortissimo giochi con uno meno forte o un principiante. Abbiamo il torneo magistrale riservato ai professionisti e semiprofessionisti. Abbiamo i tornei A e B dedicati a buoni giocatori dilettanti e abbiamo il torneo C e giovanile riservato a chi è agli inizi e ai giovanissimi. Gli accoppiamenti come si stabiliscono? Il sistema che usiamo tecnicamente si dice è un sistema svizzero. Praticamente si inizia a giocare che i più forti incontrano quelli medi, i medi incontrano quelli più debole. Poi mano a mano si radunano questi vari accoppiamenti. Il sistema è un po' come un campionato, vale a dire che si cerca di fare tutti, fanno il medesimo numero di partite. Alla fine viene stilata una classifica, un punto se si vince, mezzo punto se la partita finisce in parità. Alla fine si stila questa classifica e si vede in base ai punti accumulati chi è il più forte e chi ha vinto il torneo. Non ci sono solo partite, cercate di rendere piacevole anche quello che è un soggiorno ai piedi della Presolana? Sì, ogni anno cerchiamo di aggiungere parecchie attività collaterali al torneo perché la gente viva questa manifestazione non solo come un torneo di scacchi ma anche come una settimana di vacanza. Quante persone muove il torneo tra organizzatori, giocatori e accompagnatori? Sicuramente si superano le 300 persone perché bisogna considerare che oltre i 200 giocatori moltissimi sono saliti con le proprie famiglie o con i propri accompagnatori. Quindi sicuramente non meno di 300, tra i 300 e i 400 persone in tutto sono attualmente alloggiate qui tra Castione e Bratto nei vari alberghi e nei vari altre strutture.